Musica Ah un po' benvenuto, buoni suoni e benvenuti qua in questo nuovo fantastico video Oggi sono qua sopra Hitman 2 Ebbene, siamo qua in modalità Ghost Per chi non sa che cos'è la Ghost Mode È una modalità dove si fa una versus Io contro un altro giocatore, un amico o un giocatore casuale Dovremmo metterci in questa mappa, stessa identica mappa, stessa identica zona Noi potremmo vederci, però sarà come un mondo parallelo Quello che succede da me, non succede a lui Quello che succede da lui, non succede a me Se io faccio stealth e lui spara tutto e tutti Diciamo che da lui tutti quanti sono in agguato Mentre da me sono tutti quanti calmi e tranquilli a fare i cazzi loro Quindi vedremo un pochettino Oggi sono qua con Kuro, che però è scomparso in questo preciso momento Kuro? Quindi ripeto di nuovo qua, oggi siamo qua con Kuro Una persona fantastica che giocherà con me e vedremo di divertirci Perché so già che questo qua sarà una partita infinita Soprattutto con me e lui Salve Ho già spiegato a cosa stiamo per andare a giocare Ho già fatto la mia intro Quindi possiamo andare a divertirci sopra Hitman Perché so già che non finiremo mai Mai? Come l'ultima volta Finiremo prima o poi Un uccente tira l'altro dai Che sarà mai Un uccente tira l'altro Ebbene ragazzi, oggi siamo qua sopra Santa Fortuna Una mappa abbastanza difficilina Perché qua siamo tutti nei boschi Nelle fresche frasche proprio E sarà un po' difficile andare a cercare i nostri bersagli Perché tutte quante le zone sono sorvegliate Tutte dico Il nostro obiettivo è ammazzare quel puntino rosso Cioè vince chi arriva a 5 Dovevamo ammazzare quel puntino rosso E nascondere il cadavere Se uno vede il cadavere il punto non vale Quindi vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare Ah è nella casa, ok Più a me non me la ricordo questa mappa Allora Quello è il travestimento Siamo bene Ah io mi sono appena travestito Vediamo se posso passare in quella zona Ah non posso entrare in questa zona Allora io dovrei Andare da quella parte Di opponent Disguise Non è un ottimo travestimento Però mi sarà utile più avanti Vabbè Ma non mi importa Me lo trovo da me per me Si inizia Uh Che culo Allora entro già dalla porta Sì sì Ne ho proprio stesso uno Ah io adesso gli sto per stendere uno Fra 5 4 3 2 1 Va cucciolo Salve 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 Mio bel target No 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 Allora Come ti devo ammazzare Devo rimanere lì Devo rimanere lì No Non ammazzarlo Come sei scesa te Ah Io vorrei trovare una maniera per scendere da te Perché non ci sono scale Ah ho trovato le scale Sto tentando una maniera per scendere da te Perché qua è ancora più in fondo Ci sono più scale Devo un attimo capire un po' No Come on Dai Ehi Pulito Di pisi Ehi Sai che non l'ammazzo perché è qua di sotto Salve Non badate a me Io devo passare Ehm Ciao come stai Moneta Sempre Ah ma sei proprio sulla strada te Stronzo di uno Ok ok Vediamo un attimo di fare qualcosa Beh io aspetto Ah tu aspetto Si muove Si muove Si muove Si si A linea parallela Stiamo camminando dai salve testimoni di geova si può? nulla di che cioè non ok perfetto qui non c'è nessuno con la pistola non ho pezzato ecco il cadavano vabbè chi serve ho ammazzato con la pistola addirittura io io sono riuscito a ammazzarlo ok siamo uno o due fuck però ci arrivo prima io curo ci arrivo prima io monete servono sempre ragazzi quindi ricordatevi le monete mh è la priorità le monete vabbè io faccio il giro in lungo anche se ciao io ci do infatti eeeh eeeh oh puttame fuck yeah lo so lo so adesso arriverà nella mia zona 10 9 8 no non ce la farò lo so già 6 5 4 3 2 1 fuck yeah oh nuovo target ah grazie pam 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 tata madonna salta cosa curo ho appena visto un tuo travestimento baggarsi in maniera spaventosa speravo di spaventarti più che altro mi hai spaventato a morte ah ma è tutto normale questo qua l'ho già fatto e tieni conto wow tu ok 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 fuck ma ti giuro vedo il tuo vestito ma ti giuro vedo il tuo vestito no no te lo giuro te lo giuro il tuo vestito è qualcosa di buggoso te lo giuro vedo il tuo vestito è qualcosa di buggoso vedo il tuo vestito è tipo vabbè ok mmm speratore no na 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 dai almeno non sono più buggato come prima no 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 ahah quindi indi quando va nelle frasche martello no 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 ma l'hai detto a quei due ok almeno ho ammazzato questo qui si può ancora fare no cosa hai trovato no indi qualcosa di brutto oh fuck e si in questa modalità posso anche ostacolarti ah già è vero o la granata cecante o la granata fumogena no anche congelante cioè il congelante è vero fumogeno e congelante sarebbe un peccato congelati mentre stai per per ammazzare no in quel tempismo si gira poi quello dice what are you doing what the fuck are you doing ciao indi guarda cosa ho in mano no ehi 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 è bello che interferisce solo nel tuo mondo è bellissimo oh indi oh indi ah non me ne frega no ah ma mi rallenta ma 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 aspetta un attimo io posso fare così ma io ho già eliminato il corpo quindi anch'io fuck sei già quattro ormai ormai ho perso no non è detto dai eh che ne sai che ne sai che ne sai 3 2 1 the lead keep it up fine eliminate ah è lì wow ho praticamente preso il vestito classico di di 47 devo finire in devo finire in gran bellezza no? no devo riuscire almeno ad arrivare a 4 aspetta un secondo ah si eccola qui infatti mi chiedevo dove era eh io cosa prendere ah è lì ah è lì è lì eh è lì eh 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 iì jiii quindi No Mi ha cambiato il costume Ho avuto un item che mi ha cambiato il costume Sul momento Anche a me mi ha cambiato il costume Bastardo Vabbè dai E' stato bello ragazzi Ci vediamo nel prossimo video E arrivederci Sei una persona orribile Di due Di due Guarda quante naturalizzazioni ho fatto Il minimo possibile 5 su 5 Guarda quanti corpi nascosti Io ne ho abbazzato uno per sbaglio Per sbaglio Premuto B Io voglio E voglio rirviare Guarda il